Il tema della politica del lavoro è veramente uno dei temi centrali dello sviluppo, noi abbiamo che la politica del lavoro in questo momento a livello del pianeta, noi abbiamo 220 nazioni e ogni nazione ha le sue leggi e le sue politiche del lavoro, questo comporta che i salari minimi sono diversi in tutti i paesi del pianeta, le regole della sicurezza del lavoro sono diverse, l'eticità di ciò che uno fa sono diverse, andiamo dal cinese che guadagna 100 dollari al mese e lavora 350 giorni all'anno, magari a quello che invece prende il Presidente di una multinazionale, prende mille volte lo stipendio di un lavoratore, c'è qualche Presidente che guadagna una volta, il Presidente di una grande multinazionale ha chiesto, ma lei guadagna 12 milioni di Euro l'anno, lo sa che noi con 12 milioni di Euro l'anno paghiamo lo stipendio per un anno a mille dipendenti, quindi andiamo da questi enormi sbalzi di differenza. Ci sono due elementi che sono importanti, il lavoro è la fonte di sostentamento di ogni persona e quindi è un diritto, addirittura io dico che il lavoro è un atto di preghiera, l'atto di preghiera è un atto profondamente personale e necessario. Quindi abbiamo due campi di lavoro, il primo è creare delle regole comuni che se uno si muove sul pianeta, vai in un altro posto e trova le stesse regole di lavoro, non a livello di sfruttamento, non a livello di schiavitù. Il secondo è dare la possibilità alle nuove leve di inserirsi nel mondo del lavoro. Questo si fa con due sistemi alternati, il primo è che noi non dobbiamo smettere di avere la crescita, perché se andiamo a crescita a zero, non ci sono più nati, non ci saranno più persone che pagheranno le pensioni di quelli che a 70 anni vanno in pensione. Quindi deve avere un equilibrio tra quelli che vanno in pensione e di nuovi nati, in modo tale che c'è sempre qualcuno che possa provvedere alle generazioni future e alle generazioni passate. Il 70% dei paesi del mondo non ha il sistema pensionistico, quindi praticamente uno diventa vecchio quando muore, perché deve lavorare fino all'ultimo minuto. Una delle regole è trovare un sistema pensionistico che sia equilibrato a livello mondiale. Molti dei pensionati italiani oggi vanno in paesi a basso reddito, perché con 800 Euro vivono meglio che non vivendo a Milano, perché in Tunisia con 800 Euro vivi meglio, perché in Tunisia il costo della vita costa meno della metà. Allora noi dobbiamo fare in modo tale che alcuni elementi siano comuni, cioè il costo della vita prima o poi deve essere uguale dappertutto, in modo tale che il lavoro e le leggi del lavoro siano identiche, sia per uomini che per donne. Ancora oggi abbiamo il dislivello fra le donne e gli uomini, cosa che è assolutamente irregolare perché questo va a denigrare il lavoro femminile. Il secondo elemento che è molto importante è la possibilità che i dipendenti di un'azienda diventino soci dell'azienda. Nella mia personale configurazione economica, io sono favorevole alla distribuzione degli utili dell'azienda in proporzione ai lavoratori dell'azienda. Chiunque ha lavorato in un'azienda dove ci sono degli utili, parte di questi utili vanno utilizzati per lo sviluppo dell'azienda, quindi per investire in nuovi mercati, in nuove tecnologie, in nuovi macchinari e parte va distribuita tra i dipendenti perché? Perché se si sentono parte di un'azienda che cresce, danno il meglio di loro, non imbrogliano l'azienda e ottengono un maggiore incasso, un maggiore frutto del loro lavoro che oltre allo stipendio viene generato da parte degli utili. Questo è un sistema che sta cominciando in qualche parte del mondo a dare i primi risultati e noi ci accorgiamo che in tutte le aziende dove il profitto dell'azienda è in parte distribuito ai dipendenti in maniera equa, i dipendenti non solo non danno le dimissioni, ma lavorano con maggiore qualità. Questa politica è ancora una politica contraria alla definizione che dicevamo prima che lo scopo di un'azienda è il profitto solo, ma se un'azienda ha come scopo il profitto e la centralità delle persone, questo profitto suddiviso in parte per migliorare l'aspetto tecnologico dell'azienda e in parte per coloro che sono al centro dell'azienda produrrà delle aziende che sono sempre migliori, con felicitazioni delle persone che ci lavorano perché godranno dei benefici dell'azienda.